Maestose dai colori e dalle forme cangianti, come immensi drappeggi celesti, le aurore sono fenomeni che appaiono con frequenza nei cieli del nostro pianeta, quasi sempre nelle zone prossime ai poli. Ad accenderle è una pioggia invisibile e continua che investe il nostro pianeta, un flusso di particelle che ha un'origine ben precisa, il Sole, la nostra stella. Il Sole infatti non ci fornisce solo l'energia che ha permesso alla vita di svilupparsi come oggi la conosciamo, ma interagisce con l'ambiente terrestre e con quello dei corpi celesti del nostro sistema planetario in modo più complesso, poiché rilascia nello spazio materia, radia, mediazione e campi magnetici, che si aggiungono a quanto emesso da sorgenti presenti sia nella nostra che in altre galassie. La disciplina che studia il tempo meteorologico dello spazio, in inglese space weather, ha il compito di monitorare l'attività del Sole e studiare le interazioni delle sue emissioni con pianeti e corpi celesti del sistema solare, in particolare nell'ambiente terrestre, con l'obiettivo di riuscire a prevederne i possibili effetti negativi e mitigarli. Il Sole è una tranquilla stella nana gialla di mezza età, di circa 5 miliardi di anni, che emette in modo continuo e in tutte le direzioni un vero e proprio vento, chiamato appunto vento solare, composto da particelle elettricamente cariche che si propagano in un'enorme bolla che prende il nome di eliosfera. L'eliosfera, che può essere pensata come la regione di spazio in cui il Sole fa sentire i suoi effetti, ingloba tutti i pianeti del sistema solare e anzi ne delimita gli stessi confini. Il vento solare ha velocità tipica di qualche centinaio di chilometri al secondo, ma in alcuni casi può raggiungere velocità molto più elevate. Le particelle che lo compongono impiegano qualche giorno per percorrere i circa 150 milioni di chilometri che separano il Sole dal nostro pianeta. Quando arrivano in prossimità della Terra, il campo magnetico, che ci avvolge come un invisibile guscio protettivo, devia la loro traiettoria, lasciandole scivolare tutto attorno. Una piccola parte viene però incanalata verso i poli, dove interagisce con gli atomi e le molecole presenti negli strati più alti della nostra atmosfera. Questa interazione produce anche luce. E' così che prendono forma le aurore polari. I loro tipici colori ci danno indicazioni sulla specie chimica che li produce. Il verde dall'ossigeno atomico, il rosso dall'ossigeno molecolare, il blu dall'azoto. L'aurora polare non è una caratteristica unica della Terra. Analoghi fenomeni sono stati infatti osservati anche su Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Ma oltre al vento, il Sole è capace di produrre anche fenomeni molto energetici, che avvengono nella sua atmosfera e che possono avere effetti significativi sull'ambiente terrestre. Tali fenomeni nascono da due semplici fattori. Il primo è che il Sole, come anche tutti i pianeti del sistema solare, ruota attorno al proprio asse. Il secondo è che esso non è un corpo solido, ma gassoso. Ciò che accade sulla superficie del Sole è che le regioni prossime all'equatore ruotano con una velocità maggiore rispetto a quelle in prossimità dei poli. Così, il debole campo magnetico prodotto dalla dinamo interna del Sole viene deformato e le sue linee si comprimono e attorcigliano, generando intensi campi magnetici localizzati nelle macchie solari. E proprio il numero delle macchie presenti sul Sole caratterizza il ciclo dell'attività solare, che ha un periodo ricorrente di circa 11 anni. Un basso numero di macchie solari indica una fase di scarsa attività, mentre un numero elevato è indice di una fase molto attiva. Questa proprietà, facilmente ricavabile dalle osservazioni, è legata al fatto che le macchie solari possono rilasciare energia magnetica durante i brillamenti cromosferici, i cosiddetti flare, con accelerazione di particelle ed emissioni di radiazione elettromagnetica dai raggi X alle onde radio. Un brillamento solare di media potenza nell'arco di 10 minuti può liberare un'energia pari a 100 miliardi di volte quella prodotta dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima. Anche enormi bolle di plasma, le cosiddette emissioni di plasma coronale, possono venire accelerate verso i pianeti, il cui campo magnetico, laddove esiste, viene compresso originando tempeste magnetiche. Queste bolle, che tipicamente hanno una massa di 20 miliardi di tonnellate di gas allo stato di plasma, possono eccezionalmente impiegare anche meno di un giorno per coprire la distanza Sole-Terra. L'arrivo di queste potenti emissioni solari, siano esse radiazioni, particelle o bolle di plasma, può perturbare l'ambiente terrestre in vario modo. Oltre alle aurore polari, le perturbazioni di origine solare nella ionosfera terrestre modificano la qualità delle comunicazioni radio, ad esempio rendendo problematico l'uso della localizzazione con sistemi GPS. Inoltre, intense correnti elettriche ionosferiche possono indurre notevoli correnti elettriche aggiuntive negli elettrodotti, innescando così blackout elettrici. Gli aerei in volo su rotte polari possono essere investiti da un flusso anomalo di radiazioni ionizzanti e riscontrare problemi ai sistemi strumentali di bordo. Durante le tempeste solari, astronauti nello spazio impegnati in attività extraveicolari possono assorbire dosi elevate di radiazioni e i satelliti subire malfunzionamenti temporanei o nei casi peggiori permanenti per l'effetto di particelle solari e cosmiche che interferiscono con la loro elettronica. In un mondo sempre più interconnesso, con servizi legati allo spazio tramite satelliti, come sistemi di posizionamento globale, comunicazioni radio-televisive, traffico dati, monitoraggio della Terra e delle attività meteorologiche, conoscere in tempo reale l'insorgere sul Sole di fenomeni potenzialmente critici per la Terra e prevederne il loro effettivo impatto con il massimo anticipo possibile, può essere fondamentale per mitigarne gli effetti, mettendo in campo tutte le contromisure possibili. È questo l'ambizioso obiettivo della meteorologia dello spazio, una scienza relativamente nuova, ma che grazie al lavoro di ricercatrici e ricercatori in tutto il mondo, e ai dati raccolti da strumenti sempre più numerosi e sofisticati, siano essi in orbita o sulla Terra, sta facendo passi da gigante. Grazie a tutti i nostri spazio,